Ci troviamo nel quartiere Pantano di Pesaro per rispondere alla segnalazione di alcuni condomini dello stabile di via Mancini 6 ad angolo con via Titosperi, marciapiede di via Titosperi che è palesemente dissestato, una struttura di passaggio che crea diverse problematiche. Come condominio sareste anche disposti a intervenire in quanto questa struttura è privata ad uso pubblico ma avete un po' le mani legate? Certo, noi eravamo d'accordo a sanare la parte superiore dove ci sono le buche praticamente, però la parte sottostante è di proprietà del comune, quindi anche volendo intervenire abbiamo un po' le mani legate nel senso che interveniamo su una proprietà che non è nostra perché la parte nostra è solo sopra. Io mi sono decisa a intervenire perché proprio ieri sera è caduta una signora, fortunatamente non si è fatta niente, però non possiamo aspettare che succeda qualche guaio grosso perché il marciapiede è veramente disastrato. Aspettiamo una risposta dal comune, l'amministratore ha scritto nel 2021, però sembra che non ci sia stata una risposta da parte del comune perché abbiamo chiesto di intervenire anche come spesa perché è di proprietà del 50% del comune, ma non abbiamo avuto risposta.